Grande soddisfazione da parte del consigliere regionale con delega all'agricoltura, foreste, caccia e pesca Franco Alfieri per l'alto numero di imprese guidate da giovani under 35 nel settore agroalimentare grazie alle quali la campagna si posiziona al secondo posto nella classifica nazionale con 5.720 aziende la campagna è la seconda regione italiana per numero di imprese guidate da under 35 nel settore agroalimentare spiega Alfieri, sul podio anche Salerno che si posiziona al secondo posto nella classifica provinciale, sottolinea lo rivela un'indagine di Union Camere Info Camere presentata nel corso del villaggio Coldiretti che si è tenuto a Napoli a giugno 2016, data della rilevazione in Italia operavano 57.000 aziende agroalimentari con a capo giovani con meno di 35 anni il 6,8% in più rispetto ad un anno prima sopra la media la campagna con un più 8,6% e la provincia di Salerno che ha fatto registrare un significativo più 16,4% e conclude insomma i ragazzi della campagna amano la terra e i prodotti simbolo della dieta mediterranea un risultato che ci riempie di orgoglio perché come regione siamo impegnati in prima linea per rendere la nostra agricoltura più giovane e moderna il villaggio Coldiretti che si è svolto a Milano rappresenta una straordinaria festa per l'agricoltura italiana dove tutti hanno la possibilità di poter vivere l'esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano dagli antichi sapori della tradizione allo street food migliaia di agricoltori ed allevatori si confrontano e raccontano ai cittadini la potenza di questo lavoro straordinario lanciando un importante messaggio ovvero quello della sostenibilità in agricoltura a livello mondiale grazie